Come Montefeltro Adventure abbiamo progettato questi sei itinerari cicoturistici accessibili dal portale del Comune di Vallefoglia, da visitvallefoglia.it e dalla pagina itinerari è possibile visitare quattro itinerari su strada e due itinerari fuoristrada. Gli itinerari su strada prevedono il percorso arte collegandosi alla città di Urbino, il percorso natura collegandosi al Parco Naturale delle Cesane, il percorso mare collegandosi a Pesaro, alla Panoramica e a tutta la zona dei borghi del Pesarese e il percorso dei borghi e castelli che si collega alla parte dell'Emilia Romagna e quindi a tutti i borghi di Montaino, Saludecio, Gradara e quant'altro. Dalla pagina di visitvallefoglia l'utente può cliccare e raggiungere l'applicazione che si chiama Comot, sulla quale noi abbiamo caricato tutte le informazioni per il turista che può avere sia delle info sugli highlights, sia quindi da visitare, sia le info sul percorso e quindi le caratteristiche chilometriche del dislivello, può visualizzare l'altimetria, può scaricare le tracce sul proprio dispositivo Garmin o semplicemente scaricando l'applicazione che è completamente gratuita sul proprio smartphone, navigare il percorso attraverso il proprio telefono, addirittura può anche concedersi delle deviazioni se nel caso lungo il percorso sulla mappa trova dei punti di interesse che gli interessa visitare. Abbiamo già annunciato che avremmo presentato con coloro che abbiamo incaricato, che poi illustreranno nel dettaglio i cinque percorsi cicloturistici per valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico e per anche la tutela del benessere e della salute delle persone perché ovviamente anche la bicicletta, il tipo di bicicletta piuttosto anche faticosa, aiuta a far star bene le persone, quelli che hanno qualche chile in più forse gli fa anche ancora più bene. Poi i posti più belli che si possono visitare nel percorso di questi cinque sentieri importanti che coinvolgono più comuni, credo sono 7-8 comuni mi pare che vengono coinvolti quindi c'è anche un interesse diciamo sovracomunale che non guasta nella valorizzazione della parte interna del territorio rispetto alla costa. Bisogna anche prendere atto che tutto sommato in un momento drammatico come quello che di questo ultimo anno per effetto della pandemia voglio dire si è riscoperto da parte di tanta gente la bellezza di poter utilizzare la bicicletta e poter camminare quindi è evidente che le amministrazioni hanno il compito di incentivare questa possibilità e oggi siamo qui per questo perché vogliamo unire la possibilità di dare sul nostro territorio dei percorsi che possono essere chiaramente seguiti dagli appassionati ma non solo dagli appassionati anche perché sono di diverse difficoltà ad un messaggio che è anche di tipo turistico questa è una zona estremamente interessante dove la bicicletta ha avuto sempre un ruolo estremamente importante sono state fatte le tappe del Giro d'Italia da Pesero a Urbino, la strada di Raffaello in passato veniva fatto il percorso degli assi sul monte di Colbordolo per cui ecco c'è anche una tradizione ciclistica oltre che motociclistica molto importante nel nostro territorio e vogliamo valorizzare tutti questi aspetti perché poi possiamo fruire di un ambiente che sicuramente è un ambiente bellissimo ricco di storie, di tradizioni e di cultura per cui l'unione di questi aspetti, la mobilità dolce un modo diverso anche di stare sul territorio assieme alla cultura e alla storia che fanno parte del nostro patrimonio e alla storia che fanno parte del nostro territorio